Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Perché nei film e nelle serie turche non ci sono baci e scene di sesso? Ci sono abbracci, carezze e forse qualche bacio, ma nulla di più. Le produzioni di film e serie tv turche hanno abituato il pubblico italiano all'amore romantico e sospirato, ma mai consumato, una caratteristica che invece piace all'estero. Un esempio di ciò sono le storie di Oiku e Ayaz in Cherry Season, la stagione del cuore o di Ferit e Nasli in Bittersweet, Ingredienti d'amore. In entrambi i casi, l'amore si concretizza solo dopo il matrimonio, e lo stesso avviene per Kane e Sanem in Daydreamer, Le ali del sogno, i cui personaggi innamorati arrivano al matrimonio solo nell'ultima puntata. L'esempio inoltre che sta riscuotendo notevole successo in questo periodo è la sopopera Terra Amara. La Turchia è diventata il secondo produttore mondiale di serie tv, e dopo il successo di Cherry Season, Mediaset continua a proporre nuove produzioni televisive ogni anno. Spesso con l'attore Ken Yaman, famoso in Patria e tra il pubblico femminile di Canale 5. Ad esempio, Daydreamer, in cui Ken Yaman è protagonista insieme a Dimit Özdemir, raggiunge alti picchi di spettatori e share, convincendo la rete a spostarlo in prima serata e nel weekend. Ma cosa piace delle serie turche? Le storie sono leggere, divertenti e romantiche, con l'amore come elemento principale raccontato in tutte le sue sfumature. I personaggi si sfiorano, si tengono per mano, si guardano negli occhi. Ogni piccolo contatto avviene in modo intimo e delicato. La mancanza di scene di sesso non rovina la storia. Anzi, si crea una forte attesa per il bacio, rendendo tutto più entusiasmante e desiderato. Le serie turche, ambientate nella moderna e vibrante Istanbul, esplorano anche la cultura del paese. Spesso i protagonisti appartengono a classi sociali diverse, con l'uomo generalmente ricco e la donna di umili origini. Le famiglie spingono per matrimoni combinati, ma alla fine l'amore trionfa non senza difficoltà. Le donne desiderano una vita diversa, vogliono essere indipendenti e capaci di guadagnare autonomamente, rompendo con le tradizioni conservatrici. Nelle serie turche trasmesse da Mediaset, non sono state apportate censure alle scene più esplicite. Le puntate sono state trasmesse integralmente secondo il formato occidentale, con la puntata originale di due ore suddivisa in tre episodi da 40 minuti. Tuttavia, sono stati effettuati piccoli tagli ad alcune scene di Daydreamer, senza intaccare la trama. La scelta di non includere scene più audaci è influenzata dalla forte conservatività della società turca, soprattutto per quanto riguarda la condizione delle donne. Nonostante vengano spesso raffigurate come sottomesse ed edite alla cura della casa, le protagoniste delle serie turche desiderano una vita diversa. Cercano l'indipendenza economica senza dipendere sempre dal marito o dalla famiglia. Tuttavia, c'è il desiderio di rompere con le tradizioni senza avvicinarsi troppo allo stile occidentale. Le serie turche su Netflix, invece, godono di una certa libertà artistica che consente di includere scene più esplicite senza preoccuparsi di offendere la sensibilità morale del pubblico. Tuttavia, il pubblico ha espresso la sua preferenza per l'amore gentile e romantico di Daydreamer rispetto a scene di sesso più esplicite.